Stammi lontano, René. Ma cosa potevo fare io? Difendere tua moglie. Non sarebbe servito a nulla. È lo sponsor che decide tutto e dichiaro che tu non gli piace. Stronzate! La mia uscita fa comodo anche a te. Così adesso non avrai più paura. Ma paura di che? Che la mia fama affuschi la tua. Ma che dici? Ma cosa pensi che non me ne sia resa conto, eh? Non fai altro che attirare l'attenzione sempre solo su di te. Io inizio una frase, tu la finisci. Io sono raffreddata, tu stanutisci. E quando mangio fagioli, tu scorreggi.